Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti e benvenuti in tutto il video Oggi andrò a parlare di quello che è successo sabato Perché lo stiamo vedendo Ovviamente Allora, che cosa è successo sabato essenzialmente? Che Dei manifestanti contro il Green Pass Fra i quali pure fascisti Hanno preso e hanno detto Ma sai che c'è? Perché non vandalizzare un posto? Andiamo ad assaltare la sede della CGL A Roma Perché no? Tutto questo è durato per 40 minuti Ma ragazzi Ovviamente Tutti quanti partiti di sinistra a dire Sciogliamo forza nuova Sciogliamo E casa fa Ma sto trend Finirà In magari Una settimana Due al massimo Cioè due Proprio hai esagerato tantissimo Il fatto sta che è successo Che ti è successo? Io oggi mentre la mia prof di diritto Spiegava Ha messo in ballo questa cosa Ha iniziato a leggerci L'articolo di Repubblica Che Dove diceva Perché questo e quest'altro La Costituzione italiana E tutto il resto Ha che gli occhi sono chiesto una cosa Signori Loro hanno essenzialmente Preso di mira un posto E poi L'hanno assaltato E rompendo tutto quanto Guarda In questo modo Se noi analizziamo Il fatto In questo modo Questo vuol dire che Potremmo paragonare E possiamo paragonarlo A quello che Un movimento Di sinistra Nasi in America nel 1816 BLM Ha fatto Durante 2020 Con oltre 2 miliardi Di danni In proprietà E soldi rubati Quindi capite bene Che in attimo La cosa è un pochettino Uguale Diciamo Mi spiego Quelli Black Lives Matter L'hanno fatto Per la loro causa Ma pure i fascisti Hanno una causa Ed è questa la cosa Che molte volte Le persone I giornali Si dimenticano Quando parlano Di queste cose Dentro alle quali Loro non ci sono Comunque Provano un Disprezzo Verso di loro Il fatto che loro Ragionano in un modo Completamente diverso Ok E come Le ragazze Di 12 anni Su TikTok Che si vengono Bisessuali Cioè E sensualmente Loro Pensano Che tipo Le faccia fighe E pensando Che le faccia fighe Lo fa Ora Per me Che non sono 12 anni Che si vince Bisessuali Non lo posso Capire Però loro Lo potranno Capire E magari Soltanto dopo Diranno Ah Ma sono Una stupida Allora Ok E subito Proveranno A cambiare Diciamo Ora Perché stavo Parlando Di questa cosa Perché Comunque Loro hanno Una causa Ok Pure Il Black Lives Matter Ha una causa Pure Il Paese Comunista Ha una causa Tutti I partiti Tutte le persone Hanno una causa Per la quale Combattere Va bene E Il fatto Che Per oggi Meglio per sabato Senti I fascisti Ok Benissimo E poi Quello che Ne ha scaturito Secondo me È un po' Sopravvalutato Poi Esce da pure La notizia Di mi sembra Guarda Non sono molto Sicuro Tipo Salvini Non prenderà parte Alla marcia Con La CGL Si lo so Ho una luce qua sotto Che mi illumina È per non fare l'ombra Essenzialmente E Sì È della CGL E Niente E tutti gli altri A dirarlo come Ah Sei un fascista Tutto No Ragazzi Non funziona in questo modo Ok Non è che Dato che io Non penso Che La moneta Debba esistere Allora Io non posso essere Di sinistra Perché Marx Ha detto questo Sul libro Su comunismo Ok È un'altra cosa Nel senso Io scelgo Di partecipare O no A una cosa In base A come sono io Ok Magari lui Non si rivede Nella CGL Ma più Nella Confindustria E va bene È come se Io sono Non lo so Io penso Io la penso Come il PD E poi vado a Vado a rifare L'Italia Che è la Scemenza È quella la cosa Infatti non ha Senza attaccare Salvini e Lameloni Come fascisti Per questa cosa E niente regali Il video è finito qui Se vi è preso Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E non vi lascia un prossimo video Ciao